Le conseguenze sociali dell'industrializzazione La rivoluzione industriale determinò in Inghilterra cambiamenti di rilievo nell'organizzazione del lavoro. Nell'aspetto dei centri urbani e soprattutto nelle condizioni di vita e di lavoro delle classi più povere. A trasferirsi verso i nuovi poli industriali urbani furono infatti i contadini, rimasti senza lavoro e mezzi di sussistenza a causa della privatizzazione dei campi. Bene ragazzi, è suonata la campanella e domani faremo una verifica sulla lezione di oggi. Ragazzi, domani c'è la verifica, come facciamo? Ma non c'è abbastanza tempo per studiare. No, ma dobbiamo per forza scogitare un'idea. Che ne dite di contagiare la prof? Ottima idea! Grande, facciamoci stare utile sopra Emanuele. Sì, sì, dai. Aggiù! 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 Ciao, amico! Questa è la mia ex ragazza. Oh, apriamo le finestre così viene freddo la prof. Così la prof sì, mi te la sciarpa. Bene ragazzi, iniziamo la lezione. Scusate ragazzi, mi è venuto a raffreddore e non ho potuto preparare la verifica. Sì! Provi con una tisana. Ho un guento balsamico. Grazie ragazzi. Ora interroghiamo Emanuele. Aggiù! Ho un'idea, contagiamo la prof. Cavolo! Cavolo! Oh mio Dio, no! No, non ridere, ridare, le facciare. Le facciare, le facciare. Apriamo le finestre così viene freddo la prof. Sì, così si mette... È una battuta, ma è una battuta difficile. Così sì, è cominciata così. E poi? Guarda? Oddio, mi sono più calda! Dai, vai! Ma non dirai! No, dirai! Pro... provi con un guento... Pro... provi con una tisana. Ocomin. Ocomin. Perché non è stato tisci? Ah, devo essere tisci! E non guardare nemmeno, Sofia! Che? 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 Grazie a tutti.